Che gnocca! Qua notate la differenza, in questo occhio ho messo il mascara, in questo no. Brow gel, uno dei miei prodotti preferiti. Blush, blush, blush me up. Il nostro highlighter stick, Light Bomb, che è il mio prodotto preferito soprattutto per l'estate. Perché è un illuminante, basta stenderlo così col dito. E dà un effetto meraviglioso. Easy makeup done. Usando tutti i prodotti Chiara Ferragni, li trovate qua. L'escrizione! 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 Grazie a tutti.